nella giornata di oggi ma soprattutto questa sera ed è che cosa si oppone al secondo rinascimento perché il secondo rinascimento non sia un discorso come causa con una sua linea contro un altro discorso quello occidentale con una sua linea che cosa si oppone al secondo rinascimento e allora tra le righe o piuttosto sopra le righe o contro le righe ieri stava qualcosa come la la gnose la gnose e e ne discuteremo avevamo discusso del patriottismo del provincialismo degli arcaismi che sono rappresentati in ciascun paese in Europa in maniera piuttosto varia e a me sembra che si riassumano però nella gnose quindi io potrei dire per il momento che ciò che si oppone al secondo rinascimento è la gnose ma ne discutiamo nel corso della giornata e la analizziamo soprattutto nel dibattito di questa sera dopo una giornata ripeto che sarà sarà intensa e ieri sera ho incrociato Alexander Zinoviev e anche stamattina mi sembrava che lui volesse fare un'aggiunta al suo intervento vuole farla subito preliminarmente oppure successivamente non mi pare che sia qui all'orizzonte è uscito un attimo bene allora e questo congresso intanto volevo dire un dettaglio questo congresso è organizzato dalla fondazione di cultura internazionale dalla casa editrice e dall'associazione di cifrematica è un congresso quindi che è finanziato anche dal contributo dei membri di queste associazioni e dalla casa editrice ma è è anche sponsorizzato da alcuni enti da alcune imprese quasi tutte di Stato che si trovano qui alcune private interamente private altre in parte private in parte di Stato e altre di Stato che si trovano qui il video intorno a Venezia di ieri sera era in questo senso un bellissimo video e riguarda proprio questa una di queste sponsorizzazioni del resto voi le trovate qui nella rivista il secondo rinascimento mi sembra quindi il discorso molto chiaro e ciascuna volta che noi organizziamo qualcosa procediamo per per iscrizione quindi in pratica è un congresso che si tiene nell'ambito di un club nell'ambito di una fondazione quindi il suo invito e poi per sponsorizzazione voi sapete che il viaggio di Colombo in America è stato finanziato per due terzi dalla capitale italiana di Firenze e di Roma ecco questo sono dei libri che l'hanno ovviamente documentato era un finanziamento folle perché non c'erano garanzie che Colombo potesse riuscire nella sua impresa eppure questi banchieri stati italiani avevano finanziato per due terzi ecco comunque di questo noi discutiamo stiamo discutendo da vent'anni e qualcosa che contrasta con siccome contrasta con l'egemonia laicista italiana comunista e laicista italiana è chiaro che è chiaro che ha sempre turbato un po' questo ambito l'egemonia stessa e per cui sempre dice ma da dove viene il denaro o è una questione teorica logica che può essere affrontata oppure se è in termini pratici è molto semplice da dove venga e come è organizzato il congresso col contributo dei membri della fondazione dell'associazione e con il contributo di quegli sponsors di quegli sponsor che hanno voluto quindi in qualche modo investire in questo congresso e mi sembra una delle cose più nobili che l'Italia possa fare in Italia ci sono investimenti ingenti intorno all'arte ce ne sono anche intorno alla scienza e la ricerca tecnologica ma quelli intorno all'arte sono di proporzioni incomprensibili in altri paesi sono ingenti sono sono molto significativi ma la contribuzione del Banco di Roma il y avuto l'interpellanza al Parlement per la parte dei comunisti per cui il Banco di Roma è intervenuto per financer un congrés che sorti dall'hégémonie comunista allora l'hégémonie c'è un mot di Gramsci e di Togliatti l'hégémonie l'hégémonie culturelle in effetti è un'hégémonie anti-culturelle non-culturelle e io dire aculturelle e io dire laïciste e quindi per rapportare a questa ideologia di la maitrise su la parola su l'art su la scienza su la ricerca c'è stato che è arrivato fino al miraggio di una nationalizzazione dell'inconscienza a savoir fino al miraggio di trovare tutto ciò che c'è in commet parmi gli italiani c'è a dire sur quoi pourrait se fonder l'hégémonie e c'è a dire l'idioci tutto ciò che c'è in commet c'è l'idioci ce n'est pas de l'idiome l'idiome c'è la particolarità c'è la logica la logica particolare logica diadica d'abord e logica e triadica ciò che c'è che c'è che c'è di discuter di ronetom ma ma riprende ce soir dal debat e la question l'animal fantastica amphibologica e propria la gnose en france e depuis cogev jusqu'à deleuze a d'errida a d'autres ruxemane etc on va reprendre ça oui ok alors pour l'instant donc cette hégémonie va pas se radicaliser au moment de la tombée de la vortrine qui va pas alors la question énervée se radicaliser c'est à dire après que le communisme apparemment est terminé dans les pays de l'est il y a eu immédiatement le changement de nom la plupart des communistes ont dit non nous ne sommes pas communistes parce que nous sommes des communistes tout à fait spécial italien national qui n'a rien à voir avec les mauvaises applications du communisme en Europe soviétique il est arrivé le secrétaire de ce parti est arrivé jusqu'à dire que le communisme avait trahi il a dit ça le 21 août il avait trahi l'intérêt des travailleurs c'est lui qui l'a dit que le communisme avait le secrétaire du parti ancien communiste il dit que le communisme dunque intervento di zinovive fernando arabal poi gabby gleichman carlo sini torno al mito d'europa molto bello carmine ben in casa albergo alberto bevi l'acqua al pomeriggio c'è stato un dibattito dentro la croazia nell'europa che è stato coordinato da ante gribota e poi c'era anche il consigliere Tuzman Petrac che aveva dimenticato il passaporto qui all'ingresso gliel'abbiamo recapitato in albergo e poi l'onorevole Alessandro Tessari e il giornalista Cechelin poi il dibattito è stato intorno piuttosto alla Russia e la Russia nell'Europa o non nell'Europa e sono intervenuti quindi Karyakin poi Maximoff Natalia Ivanova e infine Julius Edris c'è stata una bellissima traduzione di Elena Corti il pomeriggio è stato molto intenso erano interventi diciamo ricchi di elementi con molta disperazione enorme disperazione e quasi con qualche lontana nostalgia almeno sembrava così qua e là negli interventi di Karyakin e di Maximoff e poi in parte di in parte soltanto in parte di Edris ecco è venuto che dunque Karyakin mi pare che sia un personaggio del libro La Catastroica che è un libro satirico satirico comico e adesso c'è un altro libro di Zinove che La Confusione Confusion da Citi Zare che uscirà nella Presse della Cité a Parigi e poi c'è una caricatura della mostra che noi abbiamo fatto di Zinove e intorno a Karyakin allora ieri mattina quando eravamo alle sette e un quarto all'hotel Colonna Paras con Zinove per fare piccole colazioni dice ah c'è Karyakin qui allora quello brutto e cattivo presto a poco poi ieri sera quando sono rientrato in albergo lì ho trovato Karyakin e Zinove al bar abbracciati che parlavano ah perdiglione ha fatto una grande cosa ieri mattina sembrava che avessi fatto una pessima cosa di farli trovare qua ieri sera sembrava che fosse una bella cosa ma poi anche Maximoff e Zinove non si vedevano da un po' di tempo diciamo certo non da decenni ma da un paio d'anni ecco quindi questo è ciò che è avvenuto spesso nei nostri congressi perché gli inviti prescindono da da problemi locali e personali e professionali e quindi possono capitare in direzioni diverse e far incontrare persone che non sono mai incontrate no? questo è venuto a New York a Tokyo persino a Gerusalemme abbiamo fatto incontrare gli israeliani che stavano a Gerusalemme e non si incontravano mai tra loro è stato nel dicembre dell'83 diciamo perché c'è qui da Marcron ci farà è scrittrice no? è teorica della conversazione ci farà poi la sua comunicazione io ho invitato a Fernando Arrabale che poi a lui chiederò di intervenire dopo man mano ecco adesso dunque Priuc è venuto già un dibattito a Parigi quando avevamo fatto nell'82 un appello il congresso che si intitolava l'intellettuale avevamo fatto un appello per la liberazione di Guzman l'avevamo fatta anche a New York a New York c'era Kustrelsov c'era Grigorienco c'era la moglie di Grigorienco e anche Mare Calter noi ieri sera non abbiamo visto i film di New York ma questo questo brano del congresso circa 20 minuti era straordinario poi era passato alla televisione italiana alla seconda rete e c'era il racconto di Grigorienco intorno alla generale Grigorienco intorno alla diagnosi mancata da parte di Guzman Guzman avrebbe dovuto scrivere schizofrenico invece ha scritto in perfetta salute il risultato è stato che Grigorienco è andato in manicomio quando ha detto questo Grigorienco ha pianto si vede in televisione e allora la moglie straordinaria proprio ha preso la parola e ha proseguito il racconto di tutto ciò che Grigorienco aveva passato in 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 ospedale ecco questo per dire che il nostro il nostro dibattito intorno alla dissidenza intorno alla libertà di parola e non tanto del soggetto non certo il progetto di liberazione che confermerebbe quindi il presupposto della schiavitù e richiederebbe sempre l'idea di padronanza e questo dibattito anche intorno ai paesi dell'est è cominciato molto tempo fa cioè vent'anni fa e questo anche nei libri nei congressi con appelli anche per Sakharov anche da qui da questa sala dieci anni or sono ecco e voi sapete che nel 77 per esempio il suo invitare Bukowski significava essere chiamato fascista o pubblicare Ionesco ma come Ionesco Inaudi non lo pubblica più perché ha scoperto che è reazionario adesso lo pubblica Verdiglione la stessa cosa dicevano di Borges in Italia l'ostracismo verso tutto ciò che non rientrava detto ciò che non serviva insomma l'egemonia noi diciamo laicista basata sul partito luogo comunista ecco e chiaramente poi abbiamo invitato cattolici abbiamo invitato ebrei insomma è un dibattito sempre aperto e libero e tutto ciò non era permesso perché non era previsto diceva diceva un rappresentante dell'Accademia delle Scienze a Tbilisi quando mi era stata data la presidenza nel 79 e io dico allora apriamo il dibattito intorno alle relazioni perché molti l'avano chiesto è arrivato il rappresentante dell'Accademia delle Scienze se non è possibile fare il dibattito e questo non è permesso in quanto non era previsto non era previsto e allora io sono dato via se non era previsto che ci fosse il dibattito allora perché invitare al congresso ecco comunque questa sera noi durante la giornata ciascuno può interrompere per intervenire ma questa sera noi ridichiamo interamente al dibattito intorno a queste prime due giornate era il congresso di Tbilisi intorno all'inconscio e il protagonista di quel congresso era uno psicologo di Tbilisi Scerosia Scerosia aveva impegnato qualche decennio della sua vita per fare questo congresso era rimasto poi molto male era morto poi un anno dopo era giovane e c'erano molti che venivano Bassin Leontiev e c'era anche uno psicanalista comunista italiano che è stato chiamato il padre della psicanalisi italiana come in Italia viene immaginato per padre figlio suocero il genero della psicanalisi italiana non so quale sia il genere della psicanalisi francese il quale aveva scritto sulla stampa un articolo dice io non posso andare sono stato invitato anch'io a Tbilisi i due italiani Verdigliore e Musatti ma io non posso andare a Tbilisi perché diceva molto anziano già allora è morto mi pare a 93 anni perché questi sovietici hanno l'abitudine di mettere gli esponenti di un paese nella stessa camera non vorrei non vorrei trovarmi nella stessa camera con Verdiglione argomento molto sottile e allora Musatti uno protagonista dunque della dell'inquisizione allora adesso siamo qui mi pare che sia facciato Zinovive nella sala se lui poi vorrà prendere la parola dopo potrà farlo comunque glielo chiederemo adesso dicevo che Priucci poi l'ho rincontrato a Mosca nella Octobroskaya un bel albergo ma freddissimo freddissimo non benché fosse un riscaldamento enorme che io avevo visitato in aprile e poi in novembre in aprile c'era la statua enorme di Lenin in novembre questa statua non c'era più però le persone erano le stesse quindi le persone erano le stesse si cambia nome cambia pelle ma non il vizio allora adesso passiamo alla parola allora Priucci non potrà parlare della Russia nell'Europa vorremmo che parlasse dell'Ucraina in Europa lui è stato per il referendum del primo dicembre è stato in Ucraina ecco e bisogna dire una cosa mi pare che sia quasi non so uno dei pochi che abbiamo incontrato che stando in un paese a parte Bukowski che parla benissimo inglese ma comunque a Parigi mi pare che sia uno dei pochi che parli francese perché gli altri parlano russo e poi ancora russo e poi ancora russo prego forse perché è dell'Ucraina prego io vorrei vorrei discutere con i miei russimi russimi russami in связi su pessimistici apissaniam dei событиi in il suo paese avrei voluto discutere ieri con i miei cari amici con fratelli diciamo che erano qui presenti sulle loro visioni pessimistiche relativamente al nostro paese d'origine ma poi Natalia Ivanova ha finito per esaminare o per dire esattamente tutto quello che io avrei voluto dire e la sua analisi è molto vicina a quella che avrei voluto fare io per cui eviterò di soffermarmi su di essa vorrei attirare l'attenzione su un fattore un aspetto psicologico del problema su questo proposito ho discorso con molte persone sia a Kiev che a Mosca e molto забавно in Kiev la prima osservazione è che per quanto strano possa sembrare a Kiev ha trovato un atteggiamento ottimistico nell'ambito dell'intelligenza viceversa pessimistico lo tratto a Mosca vediamo una spedizione molto semplice a questa diversità è che probabilmente l'abbandono dell'impero da parte dell'Ucraina non è stato un processo doloroso quindi noi abbiamo abbandonato l'impero sovietico senza traumi anche anche i russi che non nienavidano l'imperio e vogliono l'unitazione è difficile raffreddare con questo complesso di un'unità 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 e di un'unità di un'unità evidentemente anche per i russi che non è che conservino grande nostalgia per il passato tuttavia abbandonare questi concetti lasciare distaccarsi da questo concetto complesso rappresentato prima dal popolo dal paese dallo stato e dall'impero è un processo difficile naturalmente il problema non va solo esaminato dal punto di vista del risultato terrorizzante orribile a cui è giunto attraverso il comunismo il paese ancora da rivoluzione un russico storico Kljucevsky pensava che per la rivoluzione rinforzio anche prima della rivoluzione Come un nostro grande storico, uno storico russo, Kliucevsky, aveva pronosticato che il processo di crescita di qualsiasi paese è un processo doloroso e quindi può portare a delle cose tragiche. In questo senso il processo di formazione dello Stato comunista con tutti i suoi problemi non avrebbe dovuto essere una sorpresa. Ma c'è ancora una grana del problema del pessimismo? Se la russa intelligenza a suo naro sempre dice, ma per l'aspirato, molti dicono che se fosse, se sarà male, quindi sì, sarà male. Se la russa è sempre andato male, continua ad andare male, pertanto continua ad andare male, non vedo come possa andare diversamente. È effettivamente vero, in tutte le nostre nazioni, nazioni che prima costituivano l'impero sovietico, la situazione diventa progressivamente più difficile e più caotica. Stiamo vivendo una fase di transito, una fase di transito da una società decisamente anti-umana a un tipo di società che speriamo sia più ricca di valori umani. Dalla palude, da una palude in cui ci si ritrova, è difficile cavare fuori qualcosa di umano, qualcosa che abbia dei valori umani. E' noto il proverbio secondo cui tutte le strade portano a Roma. Ieri Natalia Ivanova ha ricordato che qui, in questa città, lo scrittore ucraino Gogol ha scritto il suo bellissimo romanzo, Le anime morte. Ma in Ucraina tutte le strade portano a Shevchenko, così come in Russia tutte le vie portano a Pushkin. Ieri si è ricordato dal giorno della morte di Shevchenko. E ho pensato a questa coincidenza. Come ieri, nel 1861, è morto Shevchenko. E ho in qualche modo voluto collegare a Roma il suo destino, la sua vita. L'anno della morte di Shevchenko ha segnato la nascita dell'Italia come Italia Unita. E Shevchenko allora cominciava la lotta contro lo Stato per creare uno Stato ucraino, uno Stato ucraino che solo quest'anno noi abbiamo ottenuto e realizzato. Il miracolo, la cosa stupefacente in Shevchenko è che lui, il povero servo della Gleba, è riuscito a diventare un letterato straordinario. Voglio sottolineare che era un servo della Gleba, mentre invece il ricco, l'aristocratico Gogol guardava con occhi talmente pessimistici al destino della sua patria ucraina che si trovò costretto o vuole scrivere in russo. E poi io, cioè, la sua lingua. Ma ancora nel 1791, il так nazionale russo, Vasily Kapnist, c'era a Prussia a parlare con i prussicoli che gli ucraini, insieme a loro, sbagliare la Russia e, in questo modo, sbagliare la sua patria. Ma già nel 1791, uno scrittore ucraino, di cui adesso mi sfugge il nome, è andato in Prussia e ha detto che insieme con i prussicoli e gli ucraini avrebbero fatto vedere, avrebbero distrutto, avrebbero sconfitto i russi. Ma la situazione è stata così nonostante, che è stato un scrittore russo, questo Kapnist, ha scritto in russo, perché pensava che l'ucraino è scoperto come un'acqua di cultura. E tuttavia, già allora, questo scrittore, nato in Ucraina, scriveva in russo, cioè era convinto anche allora che, come entità culturale, l'Ucraino non esistesse più. E вот, Shevchenko показò che è non così, bisogna credere. Shevchenko invece riuscì a dimostrare che non era così, che bisognava avere fede. Noi non avevamo uno Stato nostro proprio, ma c'era la stessa cultura, che ci ha salvato. Tuttavia c'era una cultura forte, la cultura che esattamente ci ha salvati. Esattamente due anni dopo la morte di Shevchenko, lo zara tentò di vietare l'uso della lingua ucraina. Nel 1876, nel 1876, nel 1872, ci fu il secondo divieto di uso della lingua. E l'Ucraina ha fatto un grande ruolo, che pensava che dopo questo non si è arrivata, ma si è arrivata già prima dell'evoluzione. Questo secondo colpo parveva essere definitivo nei confronti della cultura ucraina, cioè a segnare definitivamente la sua fine. E nel 2010-2020, ci fu il rinascimento di rinascimento della cultura ucraina, che è così si chiama il rinascimento del 2020. Questo fu vero fino a prima della rivoluzione, tuttavia negli anni 20 assistiamo al miracolo della rinascita della cultura ucraina. Infatti quegli anni furono definiti proprio il nostro rinascimento, il rinascimento ucraino. Lo stesso miracolo che noi registriamo in Shevchenko, lo registriamo in Paola Ticimi, che è un poeta ucraino. In drammaturgia c'era il rinascimento di Nicola Kuleshaff. Nicola Kuleshaff creò lo stesso miracolo nel teatro, nel dramma. In kino c'era il rinascimento di Davzhenko. Davzhenko nel cinema, quindi per ogni tipo d'arte c'è stato un personaggio che è riuscito a salvare l'identità della cultura ucraina. Dopodiché venne il periodo terribile, il periodo spaventoso. Parlo per esempio degli anni 30, in cui nella sola Ucraina si contano 6 milioni di morti. Dopodiché, e io ne sono testimone in prima persona, negli anni 60 è cominciato un nuovo fenomeno di rinascimento della cultura ucraina. E io lo posso testimoniare. E su di fronte, ai miei occhi, cominciarono nuovamente il tentativo di soffocarla. Nel 1975, nella conferenza di Tashkent, nella conferenza di Tashkent, cominciò a programmarsi una politica precisamente diretta al soffocamento e alla distruzione della cultura ucraina. E quando il poeta Vasily Stuss, nel 1980, ritornò dal lager a Kiev, e gli scrisse, non voglio vivere in questa Kiev. E' stata già non l'Ucraina, era una piena beznadiozità. Perché scrisse così? Perché ormai non riconosceva più la sua Ucraina. Ormai era un luogo senza speranza. E' stata ancora arrestata. E' stata nuovamente arrestata. E' stata iniziata a perdita, e nel 1980 morì in carcere. E' la scrisse di Stuss. E' stata iniziata a perdita, per noi iniziò il processo di percorso. E' stato assolutamente arrestato a percorso. E' stata iniziata a perdita, e' stata iniziata a perdita. E' stato iniziata a perdita, e' stata iniziata a perdita, e tuttavia voglio dire che la catastrofe di cui ha parlato Zinoviev non fu iniziata da Gorbaciov io non posso dire di amare né Gorbaciov né Shevardnadze né Jakovlev e tuttavia essi cercano di salvare sia il comunismo che l'impero la tragedia di quest'oro fu semplicemente che quando iniziarono il loro processo era ormai troppo tardi per salvare sia il comunismo che l'impero quando nel dicembre del 1990 nel 1991 in dicembre l'Ucraina ha scelto con il referendum per la sua indipendenza questo significa indubbiamente che anche i russi che vivono in Ucraina votarono, hanno votato per la sua indipendenza e questo il voto da parte di Russia a favore dell'indipendenza dell'Ucraina non è tanto un voto per la sua indipendenza quanto invece un rifiuto dell'impero perché l'impero significa morte e il caos che stiamo sperimentando in questo periodo è quello che inevitabilmente comporta il passaggio dalla morte alla vita il passaggio per usare termini gogoliani dalle anime morte alle anime vive la catastrofa iniziava nel 1914 secondo me la catastrofe iniziata nel 1914 una catastrofe che fu tale per tutta la nostra civiltà e mi credo che ora c'è una possibilità di poter essere catastrofe ma in Ucraina la situazione è quasi normale fortunatamente in Ucraina la situazione è abbastanza normale e non c'è un eccesso di russofobia né di antisemittismo e nemmeno di polonofobia cioè di fobia nei confronti dei polacchi della Polonia e non ci sono quasi dei gruppi fascisti e non ci sono quasi degli individui desiderosi di minare le mani e di combattere quasi ma io credo molto che il nuovo regolamento di Russia e qualche parte di loro con l'unità adesso giochino molto опасare in questo modo tuttavia sono convinta che esiste a livello dirigenziale a livello alto governativo in Unione Sovietica sia da parte dei dirigenti che dai gruppi delle persone che stanno loro accanto si sta conducendo un gioco estremamente pericoloso non appena si cominciò a toccare il discorso del ritoccamento dei confini per esempio individui abbastanza rispettabili come Mermansky e Popol prendono parte a questo tipo di discorsi sul rifacimento dei confini non appena si sono toccati esattamente questo tipo di discorsi ecco che si è creato il pericolo di una guerra civile di una guerra civile all'interno del paese dell'Ucraina vorrei dire solo un paio di parole su questo argomento prendiamo per esempio il caso dell'Ucraina il discorso dell'Ucraina l'Ucraina non appartiene né ai russi né agli ucraini la Crimea scusate la Crimea appartiene ai Tatari i Tatari di Crimea che a suo tempo subirono la tragedia della deportazione se tuttavia i russi avessero fondamenti seri per affermare che la Crimea appartiene a loro ecco guardate un po' che cosa succederebbe se noi dovessimo seguire questa linea la Moldavia che prima voleva appartenere all'Ucraina voleva passare la parte al di qua del Dnepr della Moldavia parte di esso voleva restare con la Russia e parte voleva andare con l'Ucraina si arriverà a una separazione, a una divisione della Moldavia e d'altro lato una parte dei Moldavi pretendono agli ucraini che venga data loro restituita la terra in Polsia, grazie a Dio, è molto stabile ma ci sono le sile che credono che l'Ucraina dovrebbe tornare a Polsia in Polonia vi sono delle tendenze fortunatamente deboli tuttavia esistono secondo le quali una parte dell'Ucraina dovrebbe essere restituita alla Polonia l'Ucraina dal canto suo ha delle pretese abbastanza fondate sui territori del Cubano per esempio se noi non riusciamo questo problema oggi principale se noi non stiamo dicendo democratiche repubblici e strani noi non dovremmo parlare di grani inoltre stupiamo all'Ucraina ecco il punto è questo finché noi non riusciremo a diventare degli Stati democratici è meglio scordarsi il problema dei confini perché è esattamente su questo tipo di discussioni che si può arrivare ad una guerra civile e nel caso specifico non si tratta solamente di una guerra fra l'Ucraina e la Russia e spero che non ci sarà mai che non ci siano delle ragioni per questo il problema effettivo è adesso dei russi che vivono in Ucraina se però la stampa centrale, la stampa di Mosca non continuasse a insistere su questi temi e a ritornarci sempre il problema di Karpov, il problema di Odessa eccetera allora temo che potranno imporsi all'interno dell'Ucraina dei movimenti russi abbastanza forti che si opporranno all'indipendenza del paese e in tal caso un odio di confronto dei russi che ora non si registra all'interno del paese potrebbe prendere piede e se oggi si possono contare veramente sulle dita di una mano il numero dei fascisti in Ucraina ecco in tal caso potrebbero diventare una forza reale, una potenza e allora veramente c'è il pericolo di una guerra civile nel paese ecco in pratica torneremo ai risultati del passato, cioè quello che già si è verificato nel 17 l'Ucraina ha perso la sua indipendenza e la Russia ha perso allora una potenziale democrazia e tutti noi abbiamo ricevuto in eredità come conseguenza l'impero sovietico vampirico e in due parole alla fine vorrei sintetizzare la posizione dell'Occidente l'Occidente insiste a pensare nelle vecchie categorie imperiali, cioè relative all'impero sovietico e io posso dire che l'amore, la gorbofilia, l'amore nei confronti di Gorbaciovfilia era in effetti un amore, un'affezione nei confronti dell'impero e io penso che quando io parlo dell'Occidente, come quando sto parlando di posizioni occidentali senza scendere in ulteriori specie particolari mi credo che l'Occidente a questo punto può giocare un ruolo estremamente importante se prende una posizione precisa nei confronti dell'indipendenza dell'impero il punto è che non si tratta qui di appoggiare la disintegrazione dell'impero quanto invece il problema di dare supporto e appoggio alle forze democratiche all'interno di tutte le repubbliche Gorbaciov ha portato a una situazione insostenibile fra l'Armenia e l'Azerbaijana per esempio gli armeni da tempo chiedevano che le truppe dell'ONU entrassero nel Nagorno di Karabakh io credo che se l'Azerbaijana veramente energetico mi interessa in questa situazione e economicamente dovrà dare anche l'Azerbaijana io ritengo che un intervento deciso da parte dell'Occidente con l'aggiunta di un supporto economico nei confronti dell'Azerbaijana questo è un problema risolubile diciamo che adesso è continuato il problema della Grecia continua ad esistere e continua a permanere il problema della Georgia al capo del quale del paese c'era una personalità di tipo alquanto fascistoide io credo che l'Azerbaijana non ha messo in questo problema l'Azerbaijana potrebbe posizionare il problema così mentre abbiamo un regime totalitario, fascistico, shamanistico, antidemocratico nessuna pomocia l'Azerbaijana non potrà ottenere l'Occidente avrebbe dovuto risolvere il problema della Georgia in modo molto semplice in questi termini dicendo finché da voi continua a persistere un regime forte di tipo fascista con un capo di Stato di questo fatto noi ci rifiutiamo di fornirvi qualsiasi tipo di aiuto ma questo io vorrei dire un obiettivo ma noi ucraini già da ultime settimane crediamo che speriamo solo sulle nostre salle ma non sulle salle salle io ho parlato qui di desideri generali però la storia nostra di quest'ultimo secolo nostra Ucraina ci ha insegnato che è molto meglio fidarsi solo unicamente delle proprie forze anziché ricorrere all'appoggio o fidarsi dell'aiuto di terzi noi vogliamo fare parte dell'Europa e probabilmente l'unica via da seguire è quella di diventare noi stessi Europa senza contare sull'aiuto di essa diventare Europa grazie applausi 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 sembra che fosse tutto essenziale, il suo testo, e con il titolo proprio ucraina nell'Europa. Fra l'altro, le cose che ha detto, perché è curioso poi che questi amici che parlano russo propongono poi sempre poeti, romanzieri, artisti della loro storia. Ieri Karjakin poi mi ha scritto un biglietto e proponeva un libro su Goya e uno su Dostoevsky. No, no, non senza rapporto, lui ha fatto due studi, uno su Goya e uno su Dostoevsky. Quello Dostoevsky l'ha mostrato ieri e gli abbiamo detto di fornircela. Fra l'altro adesso, mentre parlava invece, invece, appunto, Pliuccio, di questi poeti, scrittori, romanzieri, in lingua ucraina, mi è sorta l'idea di, eventualmente, si potrebbe fare un'ontologia, no? Un'ontologia per l'Italia o per gli altri paesi, di testi in lingua ucraina. Sarebbe una bella cosa, no? Ecco, tanto lo ringraziamo, mi sembra stato molto apprezzato, certamente, e stasera faremo poi il dibattito generale, quindi la invitiamo a essere con noi. Ecco, e ieri sera avete sentito... E' l'errore de' Melilla. Voilà, voilà. Avete, ieri sera avete sentito che quello che diceva Fernando Arabalo nei film di Tokyo. A Tokyo, quindi, otto anni al solo, e quel film è stato girato dalla Fuji Television, otto anni al solo. Esattamente in questo periodo, era fine marzo e primi di aprile dell'84, all'hotel New Otano. Ebbene, in questo film, diceva Fernando Arabalo, il secondo rinascimento, non diceva in modo provocatorio, sarà africano oppure non ci sarà. Però c'era stata un'intervista, che voi non avete visto ieri sera, dove diceva che il secondo rinascimento sarà per coloro che nascono o nasceranno a Melilla oppure non sarà. Ecco, quindi il secondo rinascimento, insomma, è di Arrabà, di Fernando Arabalo. Ecco, mentre salutiamo Ernesto Pascale, qui come manager e esperto di tecnologia, ma in Via Lima, come pittore, c'è una mostra, e poi a Parigi, il 2, io pensavo di poter fare l'otto e poter preparare meglio, ma insomma, faremo il 2, il 2 aprile, presso la Galleria Paris Art Center, come pittore. E, niente, dunque lo salutiamo. E salutiamo pure Vittorio Vettori, che quindi verrà qui al tavolo tra poco. E so che lui, tu non puoi partire se non stasera. Non puoi partire stasera. Ecco, va bene. Quindi nell'arco della giornata. Ecco, e passo la parola a Fernando Arabalo, che dice subito qualcosa, qualcosa di essenziale. Anche in connessione con questo omaggio, questo è l'anno internazionale, l'anno di Arrabà. È l'anno della fama, della donna, non della fame, perché la fame è un'altra cosa. È l'anno della femmina. Sì, la fame è la stessa cosa che la famiglia, sì, sì. Sì. Sì, ma noi siamo riuniti, il mi semblait, per parlare dei miti. Sì, voilà, perché ieri... Sì, era questione di parlare dei miti. Sì. Allora, dopo la scuola dell'Empire Romano... C'è qualcuno che mi può comprare intanto questo libro, è piccolissimo, davanti, di Cecco Angiolieri, Le Rime, è il libro della Burro. Qualcuno può andare a comprarlo, perché l'avevo promesso ieri all'Arabà, da leggere, se fossi fuoco. Anna Maria, può andare a prendere? Sì, prego. 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 In fondo alla sala, potete ascoltare o prendere posto, perché è assolutamente assurdo. Noi siamo convocati qui per un congresso e dico, ci sono due o tre congresso nella sala. Per favore. Non, ma io apprecio molto. E gli ottimi collaboratori, che sono attivi nel fare il contro congresso sempre. Prego. A un gruppo surréalista, il y avait anche, quando si è iniziato la séance, il entrerà André Breton, il y avait anche molti commentari, parole. E finalmente, il entrerà André Breton, il aveva una presenza molto solenale. E il entrerà come un certo torriador nella plazza di Séville. e hanno posato una sorta di solennità immediatamente. Ma noi stiamo parlando di una cosa così solennale, cioè le miti. E la definizione dei miti, penso che le due definizioni le più precise sono fatte per Prosper Merimé. Prosper Merimé ha stato sul punto di creare un miti. Il y a la prima division, il y a la decine division, come nel football, e credo che Carmen si situa già molto vicino dei miti. E allora Prosper Merimé, che pensava di creare un miti con una piccola nuova che si chiama Carmen, ha definito il miti. Il miti è un ognone. È un ognone. E più si usano le più più, più l'odore, le parfum, è forte. E poi c'è... Le gozo è forte, anche. E finalmente, il y a il Cocteau. Cocteau ha detto che il miti è il miti e il mensonge che dice la verità. è una piccola nuova. e io credo che la vostra fondazione le rapproche a timidità io penso che non siete consciente di quello che rappresenta la fondazione in l'istoria di mia vita io ho con il gruppo sorriano c'è un mito che noi abbiamo da l'ultimo mito che trascente a lui scritto c'è il fausto il primo mito quindi abbiamo parlato di due miti quindi le due selle miti che c'è è straordinario anche dopo seisti e seisti abbiamo uno solo capito di fare due miti Il primo di questi miti, il don Juan, il destinato a voluto che si fasse, che si fasse a qualche mè di la maison, dell'appartamento che avevo in Madrid. Il si fasse a qualche mè, e d'abord la persona che l'a scritto era un petit moine, che semblait al genio. Il genio, fisicamente, è molto facile da riferire, perché bisogna vedere come era Socrate, come era Tirso e Molina, il creatore dei miti. Il bisogna vedere come era Schubert, come era. Il è molto facile da le sapere, perché Alcibiade, nel bancaire, fa una descrizione perfetta, fisica, di Socrate, che è là, che è là, on può fare la même definizione, di questo piccolo pure espagno, Tirso de Molina, che ha condito, che ha creato le miti di Don Juan. C'est-à-dire c'est une sorte de silenz, c'est un petit homme un peu monstrueux et d'une beauté, d'une beauté spirituelle, termine, extraordinaire, que ça le verre physique n'était pas loin de là, un empêchement à sa beauté. Il faut voir, vous vous souvenez bien, comment Alcibiade, à quatre reprises, ce garçon qui était le plus beau d'Athènes, à quatre reprises, il essaye de séduire ce vieux monsieur, gros, laid, avec une tête, on dirait qu'il a été fait à coups de poing, sa tête. Et il essaye de le séduire quatre fois, d'abord, vous vous souvenez, d'abord, c'était dans l'Agora, en deuxième occasion dans le gymnase, pendant qu'il se bagarre, la troisième occasion dans le dîner, et finalement, toujours, Socrate dit, je suis trop pressé pour rester avec toi à dormir, et finalement. Alors, ce petit curé espagnol, Tirso de Molina, de l'ordre de la merci, mercédarios, il habitait à côté de mon appartement. Et mon appartement, où j'ai vécu à Madrid pendant quinze années, est capitale, et je vous conseille, la prochaine fois que vous allez à Madrid, n'allez pas voir une cour de toro, n'allez pas voir les rois et la reine aller chez moi, ou aller à Séville, à l'Hospital de la Caridad, que la création, l'Hospital de la Caridad, de la Chalité, c'est la création du modèle de Don Juan. Le modèle de Don Juan, à l'heure de mourir, un des modèles possibles de Don Juan, à l'heure de mourir, il a dit, avec peut-être beaucoup de prétention, je suis l'homme le plus méchant qui a marché sur la terre, alors je vais faire un musée du sordide. Et il a créé ce musée, cet hôpital des malades, des estropiés, que c'est l'hôpital de la Charité. Mais restons à Madrid. À Madrid, en face de chez moi, vous allez penser que c'est une invention du théâtre panique, et pourtant c'est la vérité. À la rue Madera, pendant quinze ans, j'ai vécu à six mètres des couvents de Saint-Placido. Et là, dans les couvents de Saint-Placido, il y a des noms cloîtrés. Et nous, enfants, nous étions fascinés par ces noms qui sont cloîtrés. Il y avait une jalousie des lattes, des bois. Et nous voyions que des sangs avaient défilé. C'est la même chose qu'ils voyaient ces curés, Tirso de Molina, qui a vécu dans les mêmes nuages. Et nous étions fascinés parce que nous n'avons jamais vu rien. Je me souviens qu'un matin, j'ai vu la main d'une de bonsoeur déposer les ordures. Donc, c'est Tirso de Molina. Il a rêvé de ces femmes. Et comme il a rêvé de ces femmes, vu par cet élan, cette frustration, il a rêvé d'une chose tout à fait vulgaire et frivole. Il a rêvé de séduire tous ces bonshères. Au même moment que le roi Philippe IV, un jour, passant dans la rue, a écouté une voix féminine. On peut être amoureux par une voix. Parce que la voix, c'est le même muscle que le cœur. Et alors, le roi est passé dans la rue, il a écouté une voix. Il a demandé au comte des ducs d'Olivares, qui est cette voix, la voix de la nonne qui était en face de chez moi, quatre siècles avant. Et il a demandé qui est cette voix. Et le comte des ducs d'Olivares a dit c'est Sœur Margarita de la Croix. Quel joli nom. Sœur Margarita de la Croix. Et le roi Philippe IV est tombé amoureux de cette femme. Par la voix. Et il a décidé, c'est un cavaleur, c'est un donjon, il a décidé de coucher avec elle. Alors, c'est l'historien, mais sonnero romanos, qui raconte très bien l'histoire. Donc le roi, il a été dans mon immeuble, il a fait un trou dans la cave. Et par la cave, par le trou, il a voulu émerger pour aller coucher avec la nonne. Mais, la supérieure a écouté et a vu. Et il a décidé de créer la première pièce de théâtre panique. Alors, il est arrivé chez la bonne sœur, la petite bonne sœur, dans la pièce. Et il a fait un décor de théâtre. Il a transformé la cellule de la sœur, il a transformé dans un catafalque, dans une pierre. Comme si la bonne sœur était morte. Et lorsque le roi est arrivé, vous pouvez imaginer. Ça, c'est l'anecdote qui va déclencher au petit curé, qui rêve de séduire tous ces bons sœurs, va les déclencher. Rien de moindre qu'un mythe. Qu'est-ce qu'il rêve, ces petits curés ? Il rêve de coucher avec toutes les femmes du monde. Parce qu'il est laid, parce qu'il est petit, parce qu'il n'est pas agréable. Il rêve de ça, de séduire tout le monde. Et comment il se prend ? Il va séduire quatre femmes, quatre seulement. L'hycée, le mythe, ça s'appelle « El burlador de Séville ». « El burlador de Séville », c'est le premier donjon. Et là, il séduit quatre femmes, seulement quatre. Mais les petits curés espagnols, en séduisant quatre femmes, ils séduitent toutes les femmes du monde. Pour une fois. Parce que vous connaissez, les donjon, les copies, les mauvaises copies, sont des pièces médières. Par exemple, celle des Molières. Mais les donjons, tous les donjons que vous connaissez, les donjons ne séduisent pas, ne couchent pas. Les curés peuvent coucher. Ils couchent avec quatre. Mais quatre sont toutes. Parce que si on les prend par binôme, de deux par deux, deux par deux signifient le monde. Parce qu'ils prennent l'Espagnol et ils prennent l'étranger. Espagnol puis l'étranger, le monde. Ils prennent une prostituée, mais ils prennent une femme pure. Prostituée puis pure, toute. Une femme, ils prennent une femme qui travaille à Tarragona, dans la mer, et une autre qui travaille à Séville, dans les champs. Les champs, puis la mer, toutes les femmes. Et ils prennent une aristocrate. Et ils prennent une paysanne. La paysanne, puis l'aristocrate, toutes les femmes. Et ils couchent avec toutes. Pire ! Ils ne couchent pas. Ils bourlent. Ils ne séduisent pas. Bourlent. C'est-à-dire qu'ils font une escroquerie. Ce qu'ils veulent, c'est coucher. Ils ne veulent pas se rire. Et c'est là, pour nous regarder comment cela se passe, avec six p de substances, si peu de substances. Les vouloirs, les faits, la frustration de ce petit curé va créer ce mythe. Alors, j'attends. Parce que maintenant, il me signale que j'ai qu'une minute. Je n'ai qu'une minute ? Non, pas du tout. Ah, tu peux parler encore ? Oui. Ah bien, parfait. Bien, alors, ce qui s'est passé, encore, vous n'allez pas le croire. Je vous ai dit, j'ai vivé en face de ces femmes qui ont inspiré Tirso de Molina avec une des premières conjoints. Et moi, je ne connaissais pas encore Tirso de Molina. Je ne connaissais pas. J'étais fasciné. Et un jour, et moi, j'étais fasciné et jaloux. Je voulais que c'était moi tout seul qui observe les bons seuls. Il y a un jour, un camarade m'a dit, ah, moi aussi, moi, je regarde les bons seuls en face. Ah, j'étais jaloux. Il regardait. Et pire ! Il m'a dit, ils sont là derrière les jaloux aussi. Je ne les vois pas. Mais lorsque le soleil tape sur ma chambre, je me mets à la fenêtre tout nu en érection. j'aurais voulu les poignarder. Le temps est passé. Et cet été, j'arrive à Madrid. Et je vois mon ami. Alors mon ami est très moderne maintenant. Il est socialiste. Il fait des affaires avec les juifs olympiques. Il a une fiancée de 18 ans. Ils font des joguines. Ils prennent le pointe aéreo pour Barcelone. Très moderne. Et je le rappelle, cette histoire, lorsqu'il était enfant. Il se mettait tout nu en présence des bons seuls. Il me dit, ah, à sa balle ! C'est la légende noire. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est ces histoires ? Des bons seuls, des morts. En Espagne, ils ne sont modernes. Et j'ai douté. Peut-être c'est une création de mon esprit. Peut-être il n'y a même pas de bons seuls. Alors, j'étais au couvent. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit, je vais au couvent. Et j'étais au couvent. Et je sonne à la porte. Ah, il n'y a pas d'un truc électrique. J'ai changé. Lorsque vous viendrez chez moi à Paris, il n'y a plus maintenant d'un truc électrique. J'ai fait comme les bons seuls. Il y a une cloche. Alors, je sonne à la cloche. Ça passe au moins 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, il y a une petite fenêtre en haut. S'ouvre la fenêtre. Et il y a une bonne soeur de mon âge. Sourriante. Il me dit, je suis la soeur tournière. J'ai la possibilité de parler parce que cette mois-ci, je suis la tournière. Que voulez-vous ? Je dis, je vais visiter au moins l'église. Oh, me dit-elle. Mais ce n'est pas possible. Mais je dis, je viens de France. Oh, France. Ça ouvre toutes les portes. Alors, la bonne soeur ouvre les portes. Je rentre dans l'église. Oh, l'église que je n'avais jamais vue. Il y a des tableaux énormes de Claudio Coelho. Il y a des mouligions. Et les bons seuls, ces bons seuls, elles parlaient plus que moi. Ce qui est très difficile. Alors, les tableaux de Claudio Coelho, des tableaux extraordinaires. Alors, ils sont traversés par des câbles d'électricité. Ils l'ont fait très gentiment parce qu'ils sont modernes maintenant. Et alors, elle me dit, tout d'un coup, elle me dit, vous savez, j'étais malade. Mais j'étais opéré au laser. Je suis sorti du couvent parce que je ne pouvais pas respirer. Et alors, on m'a amené à l'hôpital et j'étais opéré par les lasers. Une bonne serre. Et on continue à parler et on se rend compte qu'on a les mêmes âges. Et on se rend compte qu'on était voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada